Sono appena state da ragazzi che sono pronti per fare l'evento, c'è tanta emozione, tanta felicità, è un giorno che viviamo con gioia e siamo contenti di poter dare un sorriso ai bambini che purtroppo si trovano in struttura. Sono contenta di vedere che anche la comunità è qua presente, quindi è una cosa bella, siamo felici di essere qui presenti. Portare un sorriso, una giornata di allegria ai bambini che sono ricoverati nella pediatria dell'ospedale Santa Maria della Gruccia di Montevarchi, questo accade appunto oggi grazie all'edilizia acrobatica. Dottore quanto è importante una giornata come questa per i bambini che stanno affrontando un percorso di una malattia? È un modo per dimostrare che l'ospedale non è solo un luogo triste, ma è un luogo dove ci si può divertire, conoscere persone e quindi affrontare quello che ci capita con un sorriso. La cosiddetta terapia del sorriso, insomma sappiamo che non ha magari tante basi scientifiche, però comunque porta a un stato d'animo che magari migliora anche invece poi davvero la condizione scientifica della malattia. Di sicuro sorridere aiuta, poi non è così lontano dalla scienza, alla fine sorridere ci fa liberare endorfine e quindi ci fa stare meglio.